Antonio Messina è finalmente arrivata la prima vittoria in campionato, ha vinto la fame, ha vinto soprattutto la tua voglia di fare gol, due gol, è una prova importante la tua? Sì, è stata una bellissima partita da parte nostra, era una vittoria che cercavamo da due o tre settimane ed è arrivata oggi in casa del Francavilla. Una partita importante al termine di una settimana un po' particolare, quella partita durata solo 23 minuti con il Manfredonia, adesso bisogna continuare così? Sì, bisogna continuare per dare anche peso a questi punti e la vittoria di oggi aiuta a fare morale, aiuta la squadra a lavorare bene il settimana. Cosa vi siete detti nello spogliatoio al termine della partita? Di continuare così e di non cadere sui nostri passi falsi passati.